Il 2 luglio ha fatto tappa a Grosseto Toscana Digitale, 10 incontri organizzati dalla regione toscana gratuiti e aperti alla cittadinanza per raccogliere istanze, condividere idee buone pratiche e offrire spazi di partecipazione e confronto per enti, imprese e cittadini. I quattro grandi temi affrontati nei tavoli di lavoro sono legati allo sviluppo dell'agenda digitale e cioè infrastrutture e piattaforme, open toscana e servizi online, smart siti e nuova comunicazione pubblica. L'investimento è stato fatto, sono 230 milioni, abbiamo investito sulla banda ultralarga tra regione e governo, circa metà e metà, quindi è un investimento grosso, notevole. Per ora siamo la prima regione ad essere partiti, ad aver iniziato, già 11 comuni sono stati fatti con risorse proprie in passato, destinati a questo scopo. 15 giorni fa circa abbiamo chiuso la conferenza di servizi per partire con altri 65 comuni della prima fase e quindi bisogna riuscire a rimanere i primi perché questo significa che se noi arriviamo sei mesi prima, un anno prima, quello che possiamo dare in modo particolare alle nostre aziende è un vantaggio competitivo rispetto a regioni che arrivano dopo. La Toscana è una delle prime regioni in Italia che si è impegnata a garantire una connessione veloce fino a un gigabyte al secondo anche nelle aree bianche, ovvero quei territori dove gli operatori privati non investono perché meno popolati o meno densamente frequentati da aziende, una sfida che l'amministrazione ha raccolto per dare nuova linfa alle piccole e medie imprese toscane. La realtà del comune della provincia di Grosseto ha una necessità assoluta direi di infrastrutturarsi e di evolversi dal punto di vista tecnologico. In questo senso noi abbiamo apprezzato moltissimo sia gli investimenti dello Stato centrale sulla posa della fibra ottica nel territorio urbano del comune di Grosseto che gli investimenti di regione toscana per le aree a fallimento di mercato. Su questo si stanno inserendo altri operatori privati e quindi c'è una sinergia, è un momento assolutamente interessante e florido da questo punto di vista perché stimiamo che nel giro di due o tre anni sia i privati cittadini che le aziende del nostro territorio, la piccola realtà imprenditoriale che questo territorio ha, che ha altri tipi di risorse rispetto a quella delle grandi aziende, del capoluogo fiorentino, possano comunque sia essere raggiunti dalla alta velocità. E questo è il punto di partenza fondamentale, la creazione di una rete di collegamento, qualunque altro servizio viene accascata. Hanno partecipato all'incontro a Grosseto anche Carlotta Poggiaroni e Valentina Fedele di www.lovemaremma.com, una start-up giovane e innovativa che basa il suo successo sul turismo esperienziale. Lovemaremma.com è un portale di turismo esperienziale e marketing territoriale che va a coprire fondamentalmente tre categorie principali. Una è la ricettività con ville e appartamenti gestiti direttamente da noi, poi abbiamo gli agriturismi e gli hotel e un'altra categoria sono le esperienze. Le esperienze comprendono tour enogastronomici, sport, degustazioni e poi abbiamo i servizi accessori che sono il transfer, la babysitting, lo chef a domicilio. La banda larga è importante per noi perché noi siamo una start-up innovativa e quindi per noi è importantissimo che tutto ciò che è tecnologico sia veicolato velocemente. Il cuore del progetto di Lovemaremma è quello di promuovere la Maremma nel mondo ma allo stesso tempo di promuovere la Maremma in Maremma, tra i maremmani, perché la Maremma è un territorio molto diffuso, molto esteso ed è spesso, siamo noi i primi stessi maremmani a non conoscerla veramente a fondo. Ovviamente poi ci interfacciamo con gli stranieri perché comunque siamo già molto visitati ma possiamo fare molto di più e quindi i mercati dai quali stiamo partendo a livello di promozione del portale sono l'Inghilterra, la Francia, il Belgio e poi l'America per il momento.